Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14, due smartphone top di gamma, delle dimensioni abbastanza compatte, due smartphone veramente interessanti sotto diversi frangenti e che mettiamo oggi a confronto in questa nuova puntata del nostro format Face to Face. Quindi andiamo per punti, andiamo dritti al sodo a capire qual è lo smartphone che fa per voi. Iniziamo! Al solito cominciamo dai prezzi. 999 euro per Xiaomi 14 nel taglio da 256 GB o 1099 euro nel taglio da mezzo terabyte, 929 euro per il taglio da 128 GB di S24, che stridura un po', 979 euro per la versione da 256 GB. Sono prezzi abbastanza allineati dunque, ma è anche vero che S24 lo si trova più facilmente in sconto, io l'ho acquistato a 729 euro al lancio. Prezzo significativo per entrambi, ma ricordiamoci che sono tutti e due smartphone top di gamma e per andare a decretare il vincitore permettetemi una piccola digressione sulla questione aggiornamenti, perché Samsung offre sui Galaxy S24 ben 7 anni di supporto sia di Android che di patch di sicurezza. Xiaomi 14 si ferma invece sui canonici 3-4 anni. Guardando, considerando questo aspetto, se facessimo la divisione prezzo, diviso, supporto, anni di supporto, vince, stravince lo smartphone di Samsung, perché tendenzialmente può essere in ottica futura più longevo. Dunque il punto lo diamo proprio a Galaxy S24. Sono due smartphone tutto sommato molto simili nella scelta dei materiali, ovvero alluminio e vetro con spigoli netti, vivi, un po' in stile iPhone. Effettivamente entrambi possono essere definiti due mattoncini, ma la sensazione al tatto è di solidità, di ottima costruzione e raffinatezza. Se state cercando proprio un compatto, Galaxy S24 è quello da scegliere. Misura infatti quasi 6 mm in meno di lunghezza e 1 mm in meno di larghezza, oltre ad offrire un peso complessivo più contenuto, ovvero 168 grammi contro 190. Ad essere sinceri, l'S24 poi ha l'Armour Aluminium e il Gorilla Glass Victus 2, mentre siamo i 14 alla generazione precedente, ovvero Gorilla Glass Victus. Parlando di estetica, ovviamente va a gusti, ma per tutta questa serie di, diciamo, piccolissime differenze, mi sento di premiare Galaxy S24, che vince anche questo punto. Passando al display a cui mi allungo alla multimedialità, è davvero difficile decretare un vincitore. Sulla carta lo Xiaomi 14 può arrivare a 3000 nits di picco massimo di luminosità, contro i comunque ottimi 2600 nits di Galaxy S24. Quest'ultimo ha poi una diagonale un filo più piccola, serviva a due pollici, d'altronde l'abbiamo visto nelle dimensioni, che si tratta di uno smartphone più compatto e quindi una risoluzione leggermente inferiore, ma pur sempre full HD+. Se cifre massimo qui potremmo dire che sono alla pari, ma se andiamo sul sottile, qualche differenza la troviamo. Innanzitutto lato software, dove Xiaomi permette una calibrazione veramente minimale, granulare del display, per cui lo si può adattare meglio alle proprie esigenze oppure preferenze. Altra cosa invece su Galaxy Galaxy S24, che ha un blue shift un po' più spiccato, quasi assente su Xiaomi 14, per cui quando lo guardiamo da inclinato tendenzialmente il bianco assume una tonalità di blu. Un fastidio molto molto leggero, ma comunque presente, e che mi fa decretare Xiaomi 14 il vincitore, grazie anche alla luminanza maggiore. È davvero un peccato che Samsung non abbia implementato il Gorilla Glass Armor con bassa riflettanza anche su S24, infatti è presente solo su S24 Ultra, perché forse mi avrebbe fatto preferire proprio lo smartphone di Samsung. Per quanto riguarda la batteria, 4000 mAh all'interno di S24, 4600 mAh circa su Xiaomi 14, e già qui c'è un'importante differenza, aggravata dalla presenza di due processori diversi, che fra poco vedremo, per cui alla fine della giornata chi avrà un po' più di ricarica è proprio Xiaomi 14, che tendenzialmente arriva a sera con estrema tranquillità, mentre S24 arranca un pochetto con 4 ore, 4 ore e mezza di display acceso contro sicuramente 5 ore di schermo acceso di Xiaomi 14. Se a questo poi ci aggiungiamo la ricarica rapida 90W e 50W wireless per Xiaomi 14 contro un 25W cablato e 15W wireless su S24, il vincitore diciamo è presto detto Xiaomi 14. Parliamo ora delle performance e ci addentriamo proprio sulla questione processori che vi stavo dicendo poc'anzi. Samsung Exynos 2400 su S24, Snapdragon 8 Gen 3 su Xiaomi 14. Partiamo col dire che sono due smartphone e due processori di fascia alta, quindi con entrambi sarete tutto sommato soddisfatti. Messi fianco a fianco però le differenze si notano e Xiaomi 14 ha una marcia in più che non avrebbe se Samsung avesse implementato come su S24 Ultra anche qui lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Le differenze si notano soprattutto nei benchmark e in gaming, ma ovviamente non sono eclatanti. Nell'utilizzo di tutti i giorni sono due smartphone che funzionano praticamente allo stesso modo quando messi eccessivamente sotto stress, magari con un'esportazione video oppure con un gioco veramente pesante, ecco lì Xiaomi 14 ha quella marcia in più. Sulla questione temperature sono due smartphone in genere tiepidi quando utilizzati molto sotto stress, non diventano quasi mai troppo caldi da tenerli in mano, vedremo però se la questione cambierà durante le temperature estive di questa estate prossima. Passando al software il ragionamento è completamente inverso e qui è Xiaomi che deve assolutamente recuperare il passo perché Samsung insieme a Google ma di recente si è aggiunta anche OnePlus e Oppo stanno creando veramente un bel distacco dal punto di vista del supporto dei propri smartphone. Per la fascia alta Xiaomi garantisce in genere due tre aggiornamenti di Android e anche se arrivasse a quattro comunque c'è un importante di stacco rispetto ai sette anni di Android e patch di sicurezza offerti da Samsung sui nuovi Galaxy S24. Al tempo stesso anche a livello di funzionalità c'è poco da dire, entrambi i brand hanno affinato animazioni e coerenza con l'ultima release ma Samsung continua ad avere funzionalità aggiuntive per tutti, da chi lo vuole utilizzare in ambito produttività con la DeX, a chi piace giocare con la personalizzazione tramite Good Lock, fino a chi vuole innovazioni come l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa con la Galaxy AI. Xiaomi offre sì un po' di personalizzazione, sì il collegamento a computer Windows ma di fatto poco altro e molte delle funzionalità nuove anche estetiche le diciamo tiene esclusivamente per il mercato orientale e questo è un po' un peccato. Sul comparto fotografico Xiaomi 14 ha fatto un bel upgrade mentre S24 è rimasto diciamo un po' fermo rispetto a S23. Xiaomi 14 infatti offre tre sensori da 50 megapixel wide, ultra wide, teleobiettivo 3x quindi un 75 mm di focale equivalente stabilizzato otticamente. Quest'ultimo è proprio un nasso nella manica di questo smartphone perché non solo permette di fare foto con 3x di zoom e non solo ma permette di fare ottimi ritratti e soprattutto ottime foto in tele macro davvero davvero sorprendente. Galaxy S24 invece continua ad offrire il suo 50 megapixel principale, 12 megapixel ultra wide, 10 megapixel teleobiettivo 3x. Risultati alla mano non siamo per niente distanti, a volte vince Xiaomi a volte vince Samsung ma soprattutto Samsung tira fuori delle foto apparentemente più belle, sono in genere più luminose, riesce a gestire meglio i contrasti e anche nella modalità notturna tira fuori uno scatto complessivamente migliori. È comunque evidente come Xiaomi abbia recuperato terreno rispetto a Xiaomi 13, realizza sempre delle belle foto tra cui delle macro incredibili come vi dicevo, i suoi difetti principali sono tendenzialmente una gestione sempre un po' difficoltosa dei contrasti e il fatto che in alcune foto si vada a creare una sorta di effetto vignettatura lungo i bordi. Difficilissimo decretare un vincitore perché sono praticamente lì lì, dunque il punto lo diamo a entrambi. Dunque punteggi alla mano finisce con un doveroso pareggio e sono sicuro che molti non saranno d'accordo con questo pareggio ma vi dico subito perché. Di fatto sono due smartphone con praticamente due target differenti. Xiaomi 14 è indubbiamente uno smartphone per chi guarda alla concretezza, d'altronde vince sospetti come le prestazioni, la batteria, il display e offre un ottimo comparto fotografico. Galaxy S24 invece per chi cerca un prodotto bello, ergonomico, longevo e con un software che può dare tanto sia oggi che in futuro, anch'esso comunque con un ottimo comparto fotografico. Dunque in base a quali caratteristiche darete maggior peso per esigenze o preferenze andrete di fatto a decretare il vostro vincitore. Ma adesso sono curioso di sapere qual è all'interno dei commenti. Vi ricordo anche che in descrizione trovate i link all'acquisto ma soprattutto i link al nostro canale Telegram Prezzi Tech ma anche Whatsapp omonimo dove giornalmente vi segneriamo gli eventuali nuovi minimi storici anche su questi due prodotti. E da tutto lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo prossimo contenuto. Un saluto da mica pronto adroid.net